Valentina Un sniper Arguable Don't guarateantas one second You go forward to one seed There's a back players to Architecture protect this place Miss Miranda Valentina Miss Miranda Valentina Miss Miranda Every day Miss Miranda would call on her loyal soldiers to protect the dark Lie up and report for duty, she'd yell out One, two, three, four, four Oh no, where can he be? It was a constant challenge Tiki tapped up every one of her imperial soldiers Help! 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 È una cosa buona, è così molto rile E' un buona torta e cercare di fare questo non lo sap male E' un momento lo sap male processano Help! E' un buona torta e di cercare di fare tutto ma non lo sap male Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!